la versione di blender 2.83 è entrata in fase di beta e verso maggio adesso non ricordo esattamente la data dovrebbe diventare stabile nel frattempo è già in alfa la versione 2.90 per cui è il caso di dare un'occhiata a quelle che sono le funzionalità nuove all'interno del mio corso di gris pencil io mi baso ancora sulla versione 2.82 a che è l'attuale versione stabile sono state fatte diverse modifiche gris pensi diamogli un'occhiata in ogni caso vi consiglio di seguire comunque la parte del corso riguardo a pennelli e materiali sulla 2.82 che sono le lezioni che sono appena uscite sul mio canale perché se non si capiscono a fondo quei concetti diventa ancora più ostico capire le nuove modifiche qua siamo nella 2.83 lo segno qua su in alto con la prima matita che trovo così capite che una parte del funzionamento è rimasta uguale e questa è la 2.82 notate già che scrivendo con lo stesso strumento sono leggermente diversi allora una prima cosa da dire è che è migliorata molto la velocità di risposta quindi per esempio se disegno molto velocemente dei cerchi sulla 2.83 come vedete sono usciti piuttosto bene se faccio la stessa cosa sulla 2.82 a ecco che vedete che sono molto più spigolosi quindi c'è stato un miglioramento di prestazioni molto grosso e ve ne accorgerete anche nel momento in cui ci sono scene complesse con molti tratti che sulla 2.83 sono gestiti molto meglio vedrete che ci sono tantissime cose nuove e utilissime ed è molto bello che questo in realtà porti non a un degradamento delle prestazioni ma un suo miglioramento a sinistra nell'area dei tool è apparso un tool nuovo e soprattutto in alto qui appare una piccola finestrella con il colore questa è la cosa più importante della quale vi voglio parlare un'altra cosa che è stata fatta è stato cambiare i tool di default quindi se nel nuovo blender di default abbiamo molti più tool rispetto al precedente che ci presentava una lista più breve niente di particolare alla fine se avete seguito la mia ultima lezione sapete che questi non sono nient'altro che preimpostazioni per i valori che è possibile settare per il pennello e quindi insomma ben venga che ce ne siano di più comunque vedrete che non c'è niente di particolare sono cambiati anche i materiali di default i materiali default sono questi nella nuova versione nella versione precedente erano questi black red gray e black dots hanno cambiato nome è un nome molto più comprensibile quindi solid stroke sono è un tratto continuo squares è fatto da quadratini solid fill riempie black dots è fatto da pallini non è troppo diverso da prima come prima alcuni strumenti come per esempio airbrush si portano dietro per forza spuntato un certo tipo di materiale ed era la stessa cosa anche prima quindi prima quando sceglievo airbrush passava direttamente a black dots e anche adesso se sceglievo airbrush passa direttamente a dots stroke la cosa curiosa è che se cambio strumento di nuovo adesso passo a draw pen rimane dots stroke quindi la penna non si comporta come vogliamo mentre invece nella versione precedente quando passavo alla penna si ricordava che il mio precedente materiale era questo quindi questo io lo considererei un bug che credo sia da sistemare se avete selezionato uno strumento come anche pensi il soft che prevede l'utilizzo di un materiale bloccato nel momento in cui cambiate strumento attenzione che non vi cambia il materiale rimanete con il materiale bloccato a dots stroke e quindi il comportamento non è quello che vi aspettate tra l'altro come vedete qualche bacco c'è di sicuro perché non stanno assolutamente funzionando come prima il passaggio tra uno strumento e l'altro quindi attenzione a questo è normale con delle beta vediamo alcuni degli altri miglioramenti prendo una penna e un riempimento grigio mi sposto su un livello sottostante e riempio alcune zone che si sovrappongono adesso vado a riempire il materiale grigio tra l'altro qua a uno stroke e lo tolgo mentre invece nella nuova versione il materiale grigio è senza stroke più correttamente in entrambi i casi ho disegnato nel livello fils cosa succedeva nella versione 2.82 che riducendo l'opacità del livello si vedevano i segni che avevo fatto perché in pratica l'opacità del livello non era nient'altro che l'opacità del materiale per cui ridurre l'opacità di questo livello era del tutto analogo a recarsi qui e modificare il materiale riducendo l'alfa del materiale invece se adesso qui sotto fils vado ad abbassare l'opacità si comporta in un modo che ritengo più normale vale a dire abbassando l'opacità di un livello io mi aspetto che il livello cambi nella sua interezza non nelle singole pennellate e quindi ecco il risultato che è esattamente quello che mi aspetterai da un normale programma di disegno mi rimane la possibilità del comportamento precedente andando a modificare il materiale in questione e abbassando l'alfa del materiale in questione ed ecco che ritorno ad avere il comportamento precedente adesso funzionano meglio le sovrapposizioni fra i livelli facciamo finta di avere appunto questo livello questo colore e poi con un altro colore e faccio delle zone diverse faccio degli ulteriori elementi faccio delle altre zone anche qui diverse e altro colore ancora disegno degli elementi in più se volessi fare per esempio delle ombre qui sopra beh mi sposto sui livelli crea un nuovo livello lo chiamo ombre scelgo la modalità moltiplica vado a scegliere un colore per le ombre col colore delle ombre disegno sopra l'ombra e qual è l'effetto che viene aggiunto a tutto quanto quello che potevo poi fare in photoshop o in altri programmi era ridurre l'opacità del livello da poter regolare la quantità di ombra nella vecchia versione questa cosa non funzionava molto bene intanto vedo questi fastidiosi effetti sul bordo si vede un anti aliasing ci sono dei piccoli difettini poi c'è il problema che abbassando l'opacità come vedete non succede niente e anzi addirittura in alcuni casi si scuriva quindi era un metodo come vedete si comporta in modo strano appaiono degli artefatti qui che sono quelli delle varie pennellate che ho dato e quindi non mi permetteva di usare questo metodo a ero costretto per forza a cambiare da qui il colore delle ombre niente di male però per dire era un comportamento molto strano rispetto a quello che siamo abituati a trovare in altre applicazioni anche perché ancora più grave era quando poi cercavo di fare delle luci scelgo un colore per le luci faccio un livello luci scendiamo add vado ad aggiungere e ottenevo un risultato decisamente fastidioso ed eccessivo anche overlay dava risultati migliori ma non si comportava esattamente come mi aspetto soprattutto nel momento in cui avessi voluto ridurre l'opacità quindi adesso qua rimetto ed prova ad abbassare l'opacità il risultato è stranissimo non fa quello che mi aspetto la nuova versione è molto più coerente in questo quindi creando un livello luci e scegliendo la modalità ed questo funziona esattamente come mi aspetto tra l'altro ho a disposizione anche hard light un'opzione che prima non c'era insomma di sicuro questo comportamento è molto più normale cosa si fa spesso proprio per fare questo metodo per le luci e per le ombre nel momento in cui esco fuori dai bordi esistenti attivo il clip e player below la maschera maschera di livello che qui nella versione precedente di blender funzionava con tutti i livelli sottostanti se io avesse avuto un livello lines sotto tutti quanti se ci disegno qualcosa qua sotto ed è al di sotto il livello lines se io ombre premo il clipping le ombre scompaiono all'esterno non solo di fills ma scompaiono all'esterno di tutti i livelli sottostanti nella nuova versione invece questa parte è migliorata di molto quindi se io prendo e di nuovo o due livelli sottostanti e in questo livello o degli altri contenuti qua sotto le mie ombre sbordano su entrambi nel momento in cui attivo le maschere qui si attiva questa voce in più che di là non c'era mesx vedete spuntare questo è la stessa cosa che spuntarlo lassù e qua nelle maschere posso decidere con quali livelli mascherare e quindi posso dire di mascherare solo con livello fills ed ecco qui che maschera solo con questo posso anche decidere di invertirlo oppure di nascondere momentaneamente questo effetto di clipping e poi posso anche volendo dire no aggiungici anche lines e li voglio entrambi però mentre prima era una scelta obbligata tutti i livelli sottostanti adesso posso decidere di applicarlo solo a certi livelli o ad altri inserendoli in questa lista sto lasciando per ultima la cosa più importante che è la possibilità di dipingere i singoli vertici quando volevo disegnare con un colore nuovo dovevo ogni volta creare un materiale ogni colore pretendeva un materiale creare uno slot copiare un materiale resistente oppure partire da zero e tra l'altro il materiale devo scegliere se è un materiale stroke o un materiale fill nel momento invece che utilizzo la nuova versione di blender posso decidere di colorare singoli tratti quindi il segno può avere i punti colorati di base questa è la modalità precedente paint mode material il vecchio modo di fare per quello appunto val la pena impararlo questo è il nuovo modo e la colorazione dei singoli vertici posso da qui semplicemente come in qualsiasi altro programma di grafica scegliere un colore e dipingere il colore del vertice si mischia con il colore del materiale in questo momento il colore del mio materiale è nero e il colore del mio vertice è rosso questo mix factor decide chi comanda se lo porto a 1 disegno esclusivamente con i colori dei vertici se lo metto a metà strada si mischiano colore del vertice e colore del materiale portando questo valore a 1 nonostante il materiale sia nero il disegno viene fatto con il colore che ho selezionato di sopra tolgo l'effetto della pressione vediamo che adesso il colore è esattamente quello perfettamente solido se rimetto la sensibilità alla pressione posso anche fare le sfumature cosa che nella precedente versione era impossibile man mano che porto giù questo mix factor il risultato che ottengo è un misto del colore che sto scegliendo dalla palette e del colore originale del materiale quindi se vado a cambiare il colore del mio materiale un bel colore rosso vedete che tutti i segni sono cambiati in rosso tranne quelli dove c'era un colore assegnato il materiale continua a esserci sempre in tutti quei punti dove non ho dato un colore ai vertici quindi con questo disegno esattamente solo col materiale con questa modalità mischio il materiale a un colore e qua posso decidere il mix factor come vedete ho una palette nella quale posso anche andare a creare dei nuovi colori andare a modificarli facendo control click posso cambiare facilmente il colore della palette e quindi posso pescarli molto facilmente dalla palette queste palette le posso creare anche a partire dai colori che ci sono già è stato modificato anche lo strumento eye dropper nella versione precedente di blender cliccando su un colore sulla tela cosa succedeva mi veniva creato un materiale apposta con questo colore e quindi da questo momento in poi potevo dipingere con questo nuovo colore nelle versioni nuove invece posso decidere di comportarmi allo stesso modo material se ora clicco qui viene creato un materiale con questo colore che ho pescato se clicco qui viene creato un materiale con quest'altro colore ma l'eye dropper adesso può anche semplicemente inserire un colore nella palette con il mio eye dropper posso pescare un colore e come vedete viene inserito in fondo alla palette e diventa parte dei colori che posso utilizzare le palettes si possono creare nuove salvare duplicare quindi per esempio potrei facilmente duplicare una creare una nuova palette eccola qui è vuota e cominciare a metterci dentro alcuni dei colori pescandoli dalla tela adesso capiamo facilmente lo scopo di questo nuovo strumento a cosa serve lo strumento tint serve a colorare i vertici dei segni che ci sono già sulla tela e quindi in pratica serve a colorare posso andare facilmente a dipingere quanto è già stato dipinto e quindi a modificare i colori esistenti adesso torno alla prima palette seguo questo ovviamente ho un pennello quindi posso fare le solite cose che faccio con i pennelli posso andare come vedete a dipingere tutto quanto con nuovi colori sto cambiando colore agli stro vedete qua non succede niente perché perché tutta questa zona è fatta con i film devo dire lavora su film e allora in questo caso prendo il colore lo passo e come vedete cambierà il colore del film ovviamente è un po più difficile capire cosa succede cambiando il colore del film perché i film sono fatti da un certo numero di punti che di solito è poco colorando questa zona come vedete si colorano delle zone molto più ampie qua ho anche la forza con la quale modificare i colori questo porta tutto in una dimensione completamente nuova perché prima creare disegni molto colorati con molti colori era decisamente complesso perché dovevo in pratica creare un materiale nuovo ogni volta invece adesso è molto più facile dipingere e fare sfumature senza questo assillo dei materiali queste sono le principali modifiche vi cito l'ultima più importante green pencil non reagiva alle luci ho creato una luce la luce va ad agire sul piano sottostante ma non fa niente al mio disegno nella nuova versione invece quello che ho disegnato reagisce alla presenza di una luce prima la stessa cosa dovevo farla con l'effetto light e dovevo decidere qual era l'oggetto che dava la luce e quindi vedete con questo effetto potevo applicare una luce che semplicemente era governata da un oggetto che passava davanti a green pencil ora il in pratica gli oggetti green pencil sono una vera e propria mesh possono reagire alle luci esattamente come gli altri oggetti tridimensionali non ho ancora verificato il comportamento con le ombre non credo possano proiettare ombre comunque insomma è un miglioramento che ha portato tra l'altro alla rimozione dell'effetto light non lo trovate più perché non ha più senso di essere nel momento in cui green pencil reagisce alle normali luci in ogni caso si può anche ripristinare il funzionamento precedente nell'oggetto green pencil si può togliere use light tra l'altro livello per livello cioè possiamo decidere a ogni livello di disegno se farlo reagire alle luci oppure no facciamo in modo che la luce magari reagisca ai riempimenti ma non ai bordi neri insomma bisogna spostarsi nella modalità renderizzata per vedere tutto quanto normalmente ci si trovava in questa modalità nella modalità material preview e si riusciva a vedere tutto per esempio si aggiungo l'effetto pixelate lo vedo mentre invece nella nuova versione nella modalità material preview non vedo le luci e anche non vedo gli eventuali effetti aggiungo l'effetto pixelate ma non vedo niente devo spostarmi nella modalità renderizzata per riuscire a vedere gli effetti e a vedere le luci queste sono le principali differenze che ci sono nella 2 e 83 ce né altre però queste sono le principali che ci sono nella 2 e 83 rispetto a gris pencil e secondo me sono differenze decisamente interessanti che cambiano di molto le possibilità soprattutto questa nuova parte sul colore nella 2 e 90 probabilmente ci saranno ulteriori piccole variazioni ma in ogni caso questo è il nuovo gris pencil aggiornerò di conseguenza anche i contenuti del mio corso integrando questo video con le principali differenze però appunto imparate prima a usare i materiali in modo da capire bene come funzionano questi vertici perché alla fin fine il sistema dei materiali è ancora in piedi ovviamente perché alla base comunque di blender è importante comprenderlo per bene grazie mille di avermi seguito fin qui e alla prossima